La Roma vince fra le polemiche e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. I giallorossi di Garcia hanno vinto ai tempi supplementari per 2-1 contro un Empoli Maidoma. Il vantaggio giallorosso si concretizza al quinto del primo tempo con i turbe. La gara si mantiene equilibrata e l'Empoli, al 36esimo minuto del secondo tempo regolamentare, sigla il pareggio con Verdi. L'equilibrio che rimane nei tempi supplementari, almeno fino al 114esimo minuto, quando l'arbitro assegna un rigore a molti inesistente che fa scattare l'ira dei giocatori romagnoli. Dalle dischetto De Rossi trasforma. Stasera altre due partite, alle 18 Fiorentina-Atalanta ed alle 21 Inter-Sampdoria.